La volontà da parte loro, da parte sua, di ritornare da Avellino. Noi abbiamo la necessità di prendere un difensore centrale, dobbiamo fare poche cose. Abbiamo individuato in Illanes il giocatore, lo conosciamo bene, perché con noi è stato l'anno scorso ha fatto un campionato importante, anche se qualcun altro dice che l'ha migliorato lui, l'ha fatto diventare lui calciatore. Da parte sua di Illanes c'è questa volontà, lui ha rifiutato già 4-5 squadra, Dile Caproe, Drakatania, Palermo, lui vuole solo Avellino. E quindi è un matrimonio che si potrebbe fare. Colgo l'occasione, direttore, visto che il direttore Illanes dovrà fare poche cose per puntellare la rosa, se ci può dire, insomma, in quali ruoli, al di là del difensore centrale, in quali reparti Avellino pensa di intervenire? Qualcosa dobbiamo fare, per migliorare la squadra, qualcosina dobbiamo fare. Siamo anche alla ricerca del centrocampista, ecco, questi sono i ruoli. E poi dopo con calma vediamo eventualmente cosa vogliamo fare. Anche perché il mister ha deciso di tornare con questo nuovo sistema di gioco, bisogna prendere i calciatori adatti a questo sistema di gioco. Anche se io dico che ce ne sono, ecco, dentro. Perché giocando con un 4-4-2 ci vuole qualche altra cosina. Terzino-sinistro. Qualche esterno ci vuole, ecco, anche qualche esterno offensivo, per poter, non dico migliorare la squadra, ma per poter completare i reparti in determinati ruoli. Noi abbiamo grandissima fiducia in Miceli, come abbiamo grandissima fiducia in Dossena, in Rocchi e in Silvestri. Io non ho mai offerto i calciatori dell'Avellino al Potenza o a un'altra società. Se qualche calciatore nostro interessa a qualche società ci chiamano, ma io non mi sono mai sognato minimamente di offrire i calciatori a un'altra società. A me mi chiamò, mi chiamò prima di Natale, la vigilia di Natale, mi chiamò il presidente del Potenza, siamo molto amici, mi chiese di qualche calciatore, mi disse chi fai uscire, dico io non faccio uscire nessuno, a me interesserebbe un difensore, a me interessa Dossena, dicono Dossena da Pellino si muove. Stop.